In 150 da tutta Italia si sono sfidati a suon diversi e rime, un grande successo per la terza edizione del premio nazionale di poesia organizzato a Lucito, paese dell'amicizia poetica. Il premio nasce da un'idea del dottor Vincenzo Galluzzi, poeta e scrittore. Il concorso nasce da una mia idea, nata dalla visione della festa del primo maggio, mai dalle defenze, è una tradizione lucitese. In questa terza edizione sono partecipati 150 poeti, se pensiamo che il primo anno erano 70 vuol dire che il premio è stato apprezzato da tutti i poeti italiani e quindi hanno voglia di tornare. Il bando del concorso è stato pubblicato a gennaio, due le sezioni a tema libero, poesia in italiano e poesia in dialetto, vinte rispettivamente da Flavio Provini, arrivato a Lucito da Milano, e Giovanni Macri di Messina. La poesia che ha vinto questa edizione del premio di Lucito si intitola Alex delle Stelle ed è dedicata al mio nipote autistico, quindi parla di un tema sociale assolutamente attuale. La poesia è dedicata alla mamma, in lingua siciliana, vernacolo messinese, intitolata A mamma, la mamma. È un tasto un po' particolare, la mamma che era la regina della casa, alla quale ci si rivolgeva per qualsiasi cosa. Il premio nazionale di poesia ha avuto il patrocinio dell'Associazione Culturale Altair, della Società Agricola Lucitese, della Proloco e del Comune di Lucito. Lucito è il paese dell'amicizia e della poesia. Abbiamo visto lungo le strade del paese case decorate con delle mattonelle sulle quali è scritta una poesia. Sì, certo, questa è un'idea sempre del dottor Galluzzi che per dare valore sia al concorso sia anche per valore estetico al comune ha avuto quest'idea di mettere queste poesie su delle mattonelle e soprattutto sulle mure del centro in modo che i visitatori possano leggere le poesie. Oltre di tutto c'è anche giù una piazzetta dove vengono messe le mattonelle dei primi classificati. Abbiamo nominato proprio la piazzetta della poesia in onore sia dei poeti sia della poesia. Le premiazioni si sono svolte in sicurezza nell'auditorium San Gennaro.